No No Avete presente quella sensazione che avete quando utilizzate la droga? Sì, quella cosa che non riuscite a smettere, ne volete sempre di più Ed è proprio così che funzionano gli incantesimi Quando arrivi al looting 20, non ce la fai, devi per forza andare fino al looting 25 Ed è per questo che abbiamo costruito una nuova area Proprio per drogar, volevo dire proprio per alzare i nostri incantesimi Una nuova area enchante fatta da zero Con la tavola degli incantesimi per produrli Una farm per duplicarli E soprattutto la tool leveling table per portarli a livelli estremi Come ad esempio il sharpness 60 che c'è sulla mia spada di rubino Quindi vi consiglio di seguire il video fino alla fine Mettere un piace, commentare e condividerlo con tutti i vostri amici per non perdervi nulla Ma soprattutto se volete sostenere il canale Ricordatevi di iscrivervi e soprattutto attivare la campanellina delle notifiche Ma detto tutto ciò io vi lascerei molto volentieri a questo fantastico video con Zerk Off camera cosa ho fatto? Allora off camera non ho fatto molto Però ho fatto delle cose molto interessanti Anzitutto stavo portando un po' di questi item che sono sparsi per tutta la zona industriale Nel magazzino di casa Capite bene anche voi che è estremamente fastidioso avere tutti quanti gli item sparsi in questa zona E quando cerchi qualcosa non lo trovi mai puntualmente Quindi cosa ho fatto? Semplicemente mi sono fatto altri due backpack in oro Con i loro rispettivi stack upgrade di livello 2 In modo da poter tenere più item possibili nello zaino Ma non solo Difatti off camera ho anche upgradeato il mio zaino Trasformandolo in un zaino in diamante Che di conseguenza non solo mi aumenta il numero degli slot Ma anche il numero dei potenziamenti Se vi ricordate bene nell'episodio precedente avevo messo tre potenziamenti Due stack upgrade di tier 2 Quindi quelli in diamante Che moltiplicano di 4 volte la capienza dei vari slot E un upgrade crafting table In modo da avere la crafting table sempre nello zaino a portata di mano Adesso ho potuto aggiungere altri due upgrade Per la precisione un terzo upgrade per aumentare la capienza degli slot Quindi adesso ogni slot ha una capienza di 64 volte maggiore Quindi se uno stack prima aveva di 64 blocchi Adesso è di 4096 E poi ho aggiunto anche uno stone cutter upgrade Per avere non solo la crafting table Ma anche la stone cutter sempre a portata di mano Mentre che aspetto zer Che mi sono messo anche a fare un po' di libri Più che altro Perché così una volta che avremo il macchinario per duplicare gli incantesimi Ci potremo divertire veramente tanto Perché per l'appunto avremo tutti gli incantesimi O quantomeno più incantesimi possibili Come state vedendo sto trovando molti incantesimi Che non abbiamo trovato con i villager Qui abbiamo protection 4 Vi ricordate tutte le bestemme per trovarlo? Eh capite bene Ma abbiamo anche patato recovery Abbiamo power 2 Quick charge Abbiamo capacity Abbiamo sweeping edge Tutti libri che sicuramente ci fa molto comodo avere Adesso io personalmente non stavo cercando questi libri qua Stavo cercando un flame da mettere sulla mia spada Però ovviamente fanno molto comodo anche questi libri qua Onestamente credo che fire aspect 20 sia più che sufficiente Anche perché altrimenti diventerebbe più fastidioso Quando ci colpiamo tra di noi e ci diamo fuoco per l'eternità Quindi dire che fire aspect 20 basta e avanza Mi dava fastidio avere il knock off a 20 Il fire aspect a 20 Il looting e sharpness invece a 25 Quindi ho portato anche il knock off e fire aspect a 25 Che dire abbiamo una spada che ha looting Sweeping edge Fire aspect e knock off a 25 Sharpness a livello 60 E su tutto ciò abbiamo anche mending Per evitare quindi di riempire il magazzino di libri inutili Che fondamentalmente occupano una marea di spazio L'idea è quella di andare a costruire una vera e propria libreria Dentro il quale mettere tutto ciò che è necessario per incantare i libri Ma non solo Quindi anche la tool leveling table Metterci magari anche la farm per duplicare gli incantesimi E basta perché c'è questa roba qua Il luogo in cui andremo a costruire questa libreria sarà questo qua Quindi la andremo a costruire fondamentalmente al di sopra della farm di villager Secondo me può essere una cosa molto interessante Ovviamente la farm andrà ritoccata leggermente Quello che sto facendo adesso è andare a sostituire questa rete metallica La griglia in copper Con questi blocchi da costruzione per fare il bordo della casa La mia speranza è che non nasca nessun mini villager Che tenti di uscire fuori da questa zona Altrimenti sarò costretto a passare alle maniere forti Per chi non lo sapesse Le maniere forti comprendono dolore e sofferenza Talvolta possono provocare anche la morte dell'individuo Quindi per il bene di questi villager Posso auspicare di non tentare la fuga La struttura che ho in mente è fondamentalmente posizionata qua sopra Proprio sull'area del campo Farò le scale qui di lato Che qua da questa parte si vedono bene E chiedo perdono per il lag Oltreppo però questa zona è così lagga veramente tanto E non riesco a capire nel perché Come vedete da qua si può salire sopra Qua sopra ci sarà una piccola area di portico E poi in realtà la nostra piccolissima biblioteca Si espanderà anche sopra quest'area qua Ma non l'ho ancora deciso Magari ci mettiamo il meccanismo del duplicatore Bisogna vedere a livello di spassi quanto serve E poi qua comunque ci sarà la biblioteca vera e propria Quindi con la farm dei libri Dovremmo trovare anche un posto per la zona Dove mettere il magazzino dei libri anche Probabilmente però lo ficcheremo sotto terra banalmente Ah lo sai che con la crietta e con la mano Può mettere l'arma in quella mano E utilizzare quella mano per attaccare Porca troia Lo mettiamo per terra Che punta verso l'alto Ci mettiamo una roba scemista Tipo una spada in legno Con knockback altissimo E lo usiamo come Elytra Launcher Oddio E' geniale E lo so che è geniale Ah ok adesso si funziona la mod E' scomodissima però E' perfidissima Guardate qua che figata Stoncati A portata di mano Per poter porre fine alla nostra venire frenabile Voglio di tagliare pietre No fanculo Io mi faccio sto zaino in nederite Adesso non crede di dover togliere gli oggetti dallo zaino Perché tanto ho visto già che upgradeandola non me li cancella Quindi sicuramente non me li toglierà neanche se la uso nella smette interno Fatelo anche te dai Fate anche te sto zaino in nederite Non ti costa nulla tanto Nederite backpack Sto utilizzando dei blocchi della Ciped Per fare la nostra biblioteca Perché ho trovato questi blocchi di Deep Slate Tiles In questo momento siamo arrivati a questo punto Abbiamo capito fondamentalmente due cose La prima è che possiamo far passare tutti i vari cavi sotto la parete Difatti come vedete qua c'è un blocco di spazio La seconda cosa è che le librerie della Ciped Non funzionano con l'Enchanting Table A differenza invece delle librerie della Compact Plenty Questo è un po' un problema Perché non ci permetterà di texturizzare queste librerie qua Ma vabbè ce ne faremo una ragione Possiamo comunque texturizzare quelle sopra Inoltre sto utilizzando i Dark Oak Drawer Per fare come vedete un po' di magazzino E anche un po' di estetica Mentre per quanto riguarda le finestre Non ho ancora messo assolutamente nulla di niente Per cui sarà un po' un casino dover mettere tutte queste finestre Perché banalmente non so dove metterle Come vedete c'è o librerie Oppure c'è taniche Ci sono gearbox, c'è di tutto E per cui sarà veramente un casino mettere le finestre Al massimo le facciamo chiuse Come abbiamo sempre fatto in questi casi Quindi non sarà un grosso problema alla fine Per quanto riguarda il tetto Sarà abbastanza grande e corposo Quindi credo che questo primo piano sarà piuttosto alto Oppure mi faccio abbassare direttamente questa sezione qua Ma non è un problema Mentre che ricaricavo il jetpack Ho fatto una proposta a Zerg Che però ha completamente ignorato Adesso capirete anche perché l'ha ignorata Io ho fatto due calcoli Se noi ci facessimo uno zaino in nederite Quindi con sette slot per gli upgrade disponibili E usassimo solo stack upgrade di tier 4 Quindi quelli fatti con i blocchi di nederite Avremmo degli stack Quindi solo il singolo slot Da più di 17 milioni di item In un singolo stack Per la quantità di item che ci sono nello zaino Per gli slot nello zaino Che fanno 2061 milioni di item in un singolo zaino Io propongo questa cosa qua Il magazzino Quello delle risorse del loro Eccetera questi qua Sostituiamoli con degli zaini in nederite Quei vault Sarebbero molto più piccoli E ci sarebbe molto più spazio Per quanto riguarda invece il tetto della struttura Che è qualcosa che sicuramente apprezzerà di più Zerk Sono arrivato a questo punto Sto praticamente facendo l'outline del tetto stesso Con il legno di Fear Probabilmente avrei dovuto farlo con un altro legno Ma ormai sono qua Cercherò di aggiustarmi in maniera alternativa Però non sarà tutto così Nel senso che io voglio fare soltanto questa parte qua Completa di tetto Il tetto in questa sezione qua Come vedete partirà da più in alto E quindi arriverà piatto a un certo punto Questo vuol dire che bisognerà spostare più in basso La paleolica Ma questa cosa la faremo alla fine Quando abbiamo tutte le misure pronte e fatte Intanto Zerk si sta impegnando Per rendermi sempre più impossibile Fare delle finestre in quell'area Sto cercando di farlo quanto più compatto possibile Ma mi risulta difficile Cioè immagina avere un singolo zaino Che può portare 2 miliardi di item Avere 2 miliardi di item sul groppone Esatto Che tu vai lì nel magazzino Cioè prima me la porto dietro Lo togli Lo metto addosso Direttamente nello zaino Allora giusto per fare un esempio Io di là sono andato a prendere questo gold backpack Dove abbiamo un bel po' di esperienza di nuggets E anche polvere di ore Non so per quale motivo Comunque Me lo vado a posizionare qui sopra In automatico queste coppie fire aspirano tutto E quando andranno ad aspirare i nuggets di esperienza In automatico dovrebbero andare nella farm di là E quindi essere trasformati in liquido Ora Ho fatto il tetto E passando un attimo sopra il fatto che non ci sono finestre Non c'è nessun tipo di texturizzazione esterna Eccetera Devo dire Che non è neanche troppo male Il tetto ci può stare La seconda parte di tetto Inizierà dove? Inizierà a questa altezza qui Quindi inizierà più in alto E andrà a fare il giro anche su tutto attorno alla nostra struttura Con la differenza che questo tetto avrà poi ovviamente anche delle finestre Dove? Non lo so ancora Devo vedere come verranno divisi poi i piani Perché non ne ho la più pallida idea Però comunque sarà diviso in piani E avrà anche delle finestre Oltre ad avere il tetto che finirà in maniera piatta Quindi alla fine devo dire che è venuto pure abbastanza alto Come lo voleva Zerk Mentre che Zerk stava costruendo tutta la farm di libri Questo è quello che ho fatto Come vedete Zerk dopo che io ho terminato il tetto Mi ha picchiato e costretto con la forza Ad aggiungere quella scatola in cima per nascondere la wingmill Cosa che ho fatto? Sei felice di quello che hai fatto? Sì Quindi non sarà un malarimonio violento È finissimo così Quello che devo fare adesso è dividere tutto quanto in piani E decorare la parte dentro Una volta che avrò diviso in piani Saprò più o meno dove mettere le finestre E in questa maniera potrò andare a decorare tutto quanto definitivamente Come vedete è piuttosto alto da dentro Però credo che metterò comunque due piani Un po' per più grizzi Un po' perché erano i piani originali Un po' perché credo che comunque ci stia bene il fatto che ci abbia solo due piani Comunque sì la farm funziona così Prendo il libro incantato Fai tasto a sinistra sul macchinario Sul printer Metto il libro non incantato qua E dall'altro lato ti arriverà il libro incantato Molto facile il meccanismo Quanto meno funziona in maniera facile Ta-da Mending Ah io tengo tutti quei libri che mi sono portato Anch'io c'ho ancora dei libri Ma dal momento che il sapere e il potere Meritavo tutti per me per essere l'unica persona potente in questo server La spatola più potente di minecraft E va bene E va bene Una spatola Quanto danno fa? C'ha 20 di attack damage Vabbè non è 60 della mia spada però C'ha comunque sharpness 28 È un breaking 10 Che cazzo è quello? È una padella È la padella più forte di minecraft È la padella di player unknown Ora che abbiamo finito il tetto La difficoltà più grande sarà sicuramente fare delle finestre Anzitutto il piano inferiore saranno tutte quante finestre finte e chiuse Perché non c'è modo di fare finestre oggettivamente parlando L'unica grande finestra che sono riuscito a fare è qua davanti Ma va ovviamente ancora rifinita e decorata dalla parte davanti Per quanto riguarda il soffitto da dentro l'abbiamo fatto così È un po' strano perché da fuori vedremo le finestre Da dentro non ce ne sarà neanche l'ombra Però sti cazzi Mentre invece da sopra saranno decisamente più grandi E non solo Dal momento che ce ne sarà comunque una falsa Una finta anche qua sopra Perché qua c'è la paleolica che passa Quindi anche qua Altra finestra finta In tutto sopra avremo tre finestre Più una finestra finta Qui sicuramente i mob non ne possono spunare Perché come blocco d'appoggio ho usato le torce Quindi tutto quanto illuminatissimo Ho cercato di aggiustare il più possibile questa parte qua sopra E ho fatto ad esempio anche le persiane aperte Da questa parte qua e da questa qua Questo dato qua è venuto bene È venuto piuttosto bene con le librerie grandi Quindi la sezione qua per saltare che magari potrei anche andare a chiudere con i post Questa maniera qua come ho fatto anche da davanti Qui davanti invece dovrei ancora mettere le persiane Ma non credo le metterò anche perché c'è questo blocco in mezzo al cazzo Devo dire che non è venuto male Da fuori è abbastanza carino Fa il suo sporco lavoro quanto meno Bello grande purtroppo si vede la windmill proprio davanti in mezzo Ma faremo finta di nulla Adesso bisogna solo più fare la parte sotto E poi il gioco è fatto Allora è passato un bel po' dall'ultima clip Io sono anche da soli in questo momento È passato un bel po' dall'ultima clip Perché le light la fa a crashare il server E Zerk l'ha imparato nell'hard way Come vedete ho decorato ulteriormente l'edificio con delle foglie Per l'esattezza le foglie rosse sono foglie di maple Quindi di alberi di quercia scura con queste foglie rosse che si trovano in giro Molto carini Mentre invece le foglie che vedete con le ciliegie e i fiori viola Sono foglie di quercia lavorate all'interno della ciped Infine lo vedete quella in particolare? Adesso ve lo faccio vedere Semplicemente l'ho trovato durante una piccola esplorazione che ho fatto off camera È un legno molto figo che ho trovato all'interno di questo bioma La sua particolarità oltre appunto ad avere questi alberi viola E purtroppo questa erba qua è grass normale colorata dal bioma E la particolarità di questo bioma è che crescono anche le Wither Rose Ma purtroppo non si possono far spawnare utilizzando il bon meal Se no sarebbe stata una farm di Wither Rose pazzesca E l'altra particolarità è che di notte spawnano gli Illusioner Vedete ci sono gli Illusioner Io prima d'ora li avevo visti soltanto in gruppi di un singolo Illusioner per volta Ma come vedete possono spawnare anche in gruppo come le pattuglie Quindi direi di non andare a rompere il cazzo Perché non ho voglia di farmi una ride Comunque detto tutto ciò Ragazzi se non l'avete ancora fatto Vi ricordo di lasciare like, commentare e condividere il video con tutti i vostri amici La struttura all'interno è così Devo dire che funziona veramente molto bene Vi ricordo anche di attivare la campanellina delle notifiche Se ancora non l'avete fatto Ragazzi è fondamentale per evitare che il canale muoia Tra troci sofferenze nel fondo delle fiamme dell'inferno Come ho già detto tante volte voglio iniziare a fare le streaming Ma per poterlo fare devo permettermi una connessione decente Per permettermi una connessione decente Bisogna che condividiate i video come pazzi E attiviate la campanellina delle notifiche Che fondamentalmente è l'unico modo per farmi guadagnare un minimo da Youtube Detto ciò vi ricordo anche di passare da tutti quanti i miei canali secondari Quindi da Davide che gioca a canale Youtube secondario Ma anche dagli altri miei profili social Quindi Telegram, Instagram e TikTok Ovviamente trovate tutto quanto qui in descrizione Infine vi ricordo di pregare la betulla E anzi, anzi in questo mondo sarebbe più adatto dirvi di fare la tessera La dolore e sofferenza SFPA E detto tutto ciò Tanti saluti a tutti quanti Tanti saluti a tutti 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 Tanti saluti a tutti